For me, for you, for us, for God, for you, in your heart, for me, in your heart, for me, in your heart, great, great! Buonasera e benvenuti a tutti. In questa nuova puntata andremo ad analizzare vari comportamenti di una specie che avrebbe dovuto evolversi tanto tempo fa, ma giudicherete voi. Aggiungo che vedrete immagini esclusive grazie al puntiglioso lavoro di una straordinaria equipe. Buona visione a tutti. Lei è Chiara e la sua passione è la cucina. A Chiara piace cucinare insieme a tutta la famiglia. Le sue cose preferite sono i dolci. Ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare. E si sa, a chi piace il dolce, la bilancia non fa sconti. Lui è Leonardo e ama i videogiochi. Quando inizia, il tempo va e passano le ore. Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore. Solo una volta ho tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. E se il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Lei è Isabella e la sua passione è lo studio. Non ho capito, lei ha studiato? Sì, ho studiato. Un po' la notte, la mattina e un po' il pomeriggio. Vediamo subito se è vero. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Allora mi risponde alle domande. Mi parli di Cristoforo Colombo. Allora Cristoforo Colombo. Allora Cristoforo Colombo. Ha studiato? Ha studiato. Colgo l'occasione per ringraziare Isabella per l'approfondimento su Cristoforo Colombo. Grazie davvero di cuore. Lei è il cristoforo e ama il fitness. Right foot, two stumps. Left foot, two stumps. Slide to the left. Slide to the right. Criss-cross. Criss-cross. Ciao, ciao, real smooth. Metodo sudore e muscoli. Questo, ciò di cui si nutre. Lui è Dennis e ama le polizie. Run. Cif e Strofinaccio, i suoi più grandi amici. Lui è l'anima e la sua più grande passione è il divano. Beh, credo che il video si commenti da solo. Nella noia del suo non far nulla, trovò qualcosa di inaspettato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.